Tutti i bambini della scuola materna e della scuola elementare di Motta Baluffi hanno avuto il loro uovo di Pasqua ed è stato anche per loro, nonostante le limitazioni legate al Covid, un giorno di festa. L'iniziativa è stata resa possibile dalla donazione di una famiglia del paese che vuole però restare anonima. Le uova sono state distribuite sabato 27 marzo dalle ore 14 alle ore 16 in piazza Gaboardi nella sala consigliare del comune di Motta. Tutto questo come detto grazie alla generosità di una famiglia. Mentre il grazie del comune è andato anche alla macelleria del miglio di Motta Baluffi per la collaborazione. Le uova sono state distribuite dai volontari della protezione civile Terre di Mezzo con i genitori dei bambini che accompagnando i figli su specifica richiesta del sindaco si sono presentati solo uno per nucleo familiare per evitare assembramenti. Il grazie è stato dello stesso primo cittadino Matteo Carrara. Ringrazio vivamente i volontari della protezione civile per aver collaborato con il comune di Motta Baluffi alla realizzazione di questa iniziativa pasquale. Ringrazio i genitori dei ragazzi delle scuole dell'infanzia e primaria per aver partecipato calorosi nella speranza che questo piccolo gesto possa portare un sorriso alle famiglie e ai bambini che si trovano in questo momento in una situazione difficile.